5 lavagne interattive oltre ad un televisore e il bottino portato via ad alcuni malviventi nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 agosto ai danni della scuola Gabriele D'Annunzio a Trani. Quel materiale era destinato alle attività didattiche dei piccoli alunni della scuola dell'infanzia? Un duro colpo perché ora i bambini dovranno farne a meno? I ladri hanno risparmiato solo due lavagne interattive insufficienti per il numero di iscritti che tornerà tra i banchi a settembre. È stato un grave danno per la comunità scolastica del terzo circolo soprattutto per i più piccoli perché si era data loro la possibilità di arricchire il loro percorso didattico con un supporto tecnologico che purtroppo da ieri mattina loro non avranno più. Quelle lavagne interattive fino all'ultimo anno scolastico sono state utilizzate nelle aule della scuola primaria. Con l'acquisto di nuove lim erano state sostituite e destinate alla scuola dell'infanzia, una novità assoluta che ora tuttavia non si concretizzerà. Dare a loro quel quid in più per la loro formazione era ovviamente una fonte di arricchimento, cosa che da settembre i bambini non avranno. I malviventi hanno fatto irruzione a scuola forzando un portone posteriore alla struttura, un ex monastero nel centro storico di Trani. L'episodio è stato denunciato e i carabinieri, le indagini sono in corso. La scuola non possiede telecamere di videosorveglianza, un furto che lascia amarezza e che riaccende riflettori sullo stato di alcune scuole cittadine. Quello che chiediamo è di attenzionare al Comune, di attenzionare tutte le scuole di Trani per dotarle di maggiore sicurezza e sicuramente di controlli e di effettuare anche dei lavori di manutenzione e di lavori di manutenzione ordinaria all'interno delle scuole che poi non diventino lavori straordinari e che poi non possono essere poi realizzati. Grazie.